ciao a tutti e bentornati in tessiland news quando realizzate gioielli and made ogni dettaglio conta dalla scelta dei materiali alla precisione dell'esecuzione il tutto ovviamente per realizzare gioielli unici e raffinati e quindi lasciatevi ispirare dalla precisione dall'affidabilità dei nuovi articoli o meglio accessori per realizzare bijou and made di tessiland analizziamoli tutti nel dettaglio e poi vedremo le varie varianti a livello di misure ma anche di colori presenti proprio nella clip iniziamo subito con gli anellini chiusi in argento eccoli qui arriveranno in queste pratiche confezioni parliamo di anellini chiusi argento questi sono da 15 mm e all'interno della confezione troverete circa 30 pezzi ma sono disponibili anche in altre varianti oro e in altre misure parliamo nel dettaglio di questi nickel free quindi davvero potrete indossarli in tutta sicurezza e sono anellini in metallo con un in questo caso diametro interno di 13 mm ad esterno invece di 15 e lo spessore invece è di circa un millimetro è resistente robusto con una superficie davvero molto liscia si presta ad essere utilizzato per la realizzazione di bijou come connettore tra le due parti solitamente di una creazione o come anellino anche finale in cui inserire poi la chiusura o perché hanno anche per inserti lavorazioni a crochet insomma ecco è davvero multifunzionale adesso invece parliamo dei fermafilo questi sono i fermafili in argento da un millimetro anch'essi in nickel free distribuiti in pratiche confezioni da dieci pezzi per una grandezza di circa 7,5 x 2 mm con un diametro interno di un millimetro ed è questa una chiusura sicura e decorativa per il filo anche per il cavo utilizzato nella creazione di bracciali collane orecchini o anche altri tipi di gioielli e non solo garantiscono una chiusura sicura per i fili e i cavi appunto ma aggiungono anche un tocco di eleganza e raffinatezza alle vostre creazioni questa è la variante argento con il diametro interno di un millimetro adesso invece vediamo la variante oro un po più grande infatti ha un diametro interno di due millimetri e misura invece 8 x 3 chiusura anch'essa molto sicura è davvero sicuramente molto utile come fermafilo e adesso invece parliamo di anello per bijou eccolo qui allora parliamo quindi di un anello o meglio di una base per anello in metallo per cabochon ma anche altre pietre o perline con un retropiatto del diametro di 12 mm leggermente rientrato per poter inserire perfettamente la vostra pietra ed è regolabile eccolo qui perfetto per creare un anello incastonando un grande cabochon colorato per un effetto visivo sorprendente oppure anche potreste usare resina per includere piccoli oggetti o fiori secchi oppure anche combinare pietre per realizzare anelli personalizzati insomma ecco sperimentare con pietre perline per un look davvero sofisticato e soprattutto unico e personalizzato e adesso invece parliamo di moschettone con catena eccolo qui allora questo moschettone e catena in metallo anch'esso nickel free è lungo circa 7 cm è largo invece 4 mm eccoli qui questi anelli sono larghi circa 4 mm con terminale in metallo del diametro di circa 3 mm e consentono di chiudere e regolare facilmente bracciali ma anche le collane oltre sicuramente a fornire anche una maggiore sicurezza per evitare che il gioiello cada accidentalmente e sono componenti quindi essenziali per garantire che il gioiello possa essere indossabile quindi funzionale disponibile sia in questa variante argento ma anche in oro e adesso parliamo di schiacciini questi che vedete qui sono in argento con un diametro di 3 mm nickel free e venduti in pratica confezioni con all'interno circa 200 pezzi e sono dei piccoli componenti metallici utilizzati solitamente per la creazione di gioielli fai da te appunto la loro funzione principale è quella di schiacciare fissare insieme i fili o anche le estremità delle catene garantendo quindi che le parti del gioiello rimangano collegate in modo davvero sicuro questa forma pallina che poi avrete modo di vedere meglio nel dettaglio in seguito nella clip e il metallo morbido che lo compongono rendono davvero facile l'applicazione ma anche il montaggio ed è disponibile in questa variante argento ma ci sono anche varianti oro e altre misure adesso invece parliamo di moschettoni ebbene sì il classico per eccellenza utilissimo davvero per la realizzazione di bijou and made questo nel dettaglio è moschettone argento di alta qualità davvero da 12 mm venduto in pratica confezioni al cui interno troverete cinque pezzi e sono di alta qualità essenziali insomma ecco per la creazione appunto di bijou sono piccoli ma anche molto robusti con questi ganci metallici che si aprono e si chiudono insomma come i classici moschettoni che conosciamo ecco perfettamente utilissimi per collegare diverse parti di gioielli che si aprono e si chiudono insomma come i classici moschettoni che conosciamo ecco perfettamente gioielli come collane e braccialetti ma anche ciondoli vediamo adesso queste piccolissime perle d'oro sono in realtà dei coprinodi con gancio in oro anche questi davvero di altissima qualità e hanno un diametro di circa 4 mm sono in metallo e danno un foro centrale di un millimetro e sono utili per nascondere i nodi oppure fornire un punto anche di aggancio elegante e sicuro nelle creazioni di gioielli consentono quindi di chiudere davvero in modo pulito e professionale con lane o braccialetti o proteggere appunto il nodo dell'usura migliorando di conseguenza anche l'estetica del pezzo finito disponibile in pratica confezioni da 20 pezzi e adesso parliamo di chiusure magnetiche come si può appunto bene vincere a un diametro di circa 8 mm ed è nickel free all'interno della confezione troverete tre pezzi e da una forma sferica ovviamente con una lunghezza totale di 13 mm è composta da queste due sfere eccole qui magnetiche appunto del diametro di 8 mm che si attraggono come si può ben vedere e si agganciano tra loro davvero con facilità garantendo una chiusura sicura e allo stesso tempo anche facile da aprire e chiudere ogni estremità della sfera presenta anche un foro eccolo qui lo vedete attraverso il quale possono essere infilati i fili o catene anche del gioiello permettendo quindi di collegare in modo davvero semplice e pulito le due estremità del bracciale o anche del bijou pensate per facilitare il vostro lavoro e garantire un risultato perfetto per ogni creazione Leonardo da Vinci diceva che i dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio ed è per questo che offriamo una vasta selezione di accessori per bijou proprio perché sappiamo che ogni piccolo elemento può fare la differenza regalate quindi un tocco di eleganza e di raffinatezza al vostro look ai vostri outfit e rendeteli unici e personalizzati proprio grazie a questi bijou fatti a mano pensati proprio perché apprezza l'autenticità e la bellezza dell'artigianato io vi ringrazio come sempre per averci seguito vi ricordo di iscrivervi su tutti i nostri social vale a dire youtube e quindi di attivare anche la campanella ma anche facebook instagram pinterest e tik tok di seguire di leggere assiduamente gli articoli presenti sul nostro blog direttamente sul nostro sito di ricordarvi che potrete trovare tutti i news in ogni articolo presente sul nostro sito noi ci vediamo al prossimo nuovo articolo ciao ciao